L'uomo qualunque sta per smascherare. Ci amo! Due terribili complotti. Oggi facciamo lavoro di tiro. Attaccaremo USA, chiuda qua! Alla fangu' mei ovi. Avanti! Dobbiamo spazzare via lì e rompia lì. Perché avete dei problemi? Seranno tutti i mezzi necessari. Scusate! Per portare i cattivi davanti alla giustizia. Devo distruggere un furgone postale pieno di microbi letali prima che un gruppo terroristico distrugga il mondo intero. L'ho detta! L'ho detta! L'hai detta. Che hai detta? Cento vergini. Me ne hanno promesse cento. Forse il numero di vergini non è esattamente preciso. C'è che non ce ne sono più volte. Cosa? Troppi martini e troppe poche vergini per bilanciare scherzi? Coggiusto! Lo stiamo! Scusate le scimmie! No! Che figlio no! Dove hai preso questa scimmie? Che ne so, io non c'entro niente. Non scoppiamo. Devo mandarvi un paio di crusola giusta. Libera a me di te! Dovrebbero leggere il mio libro Come licenziare un impiegato senza farlo incazzare.